Allora, intanto che attendiamo le ultime bambine di questa pranzia di Danza, Moderna e Hip Hop vi volevo chiedere scusa per le battute che potreste sentire questa sera perché lo script l'ha fatto a funzione con il suo senso dell'umorismo noto a molti e purtroppo è andata così e quindi attendiamo che qualcuno, non so, vuole raccontare come è andata la giornata come è il mercato, c'era qualcosa di buono, non so seduti persino a terra, ma quanto ci tenete a vedere questo spettacolo riusciamo a trovarlo, c'è un posto libero per la signora che sta sedendo a terra ce l'ho, ma non vuole andare dietro sono arrivato le bambine, un applauso di accoglimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Io non posso venire. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.